Dovete acquisire informazioni su una certa Lauren Scott. Quali sono i suoi gusti? Antipatie, che cosa la fa ridere, cosa la fa piangere. Migliori amici, membri della famiglia. Ogni cosa è importante. Le piace il vino rosso, i sali da bagno alla lavanna e colleziona poster di Gustav Klimt. È incredibile! Sono originali. Sì, lo riconosci questo? Sì. L'arpista, 1895. Movimento della secessione viennese. Vedi la tensione tra la B e la tridimensionalità. Vedi la tensione tra la B e la tridimensionalità. È incredibile. Come fai a sapere certe cose? Questo è il mio preferito. Ondine, 1902. Ondine, 1902. È meraviglioso. L'innovazione divenne essenziale. Per Degas e i modernisti era un sostenitore del movimento della pittura con le dita. Come? Abbiamo perso il contatto. E toccava la tela con le dita per riscaldare la sua pittura. Lui utilizzava... Cercava l'intimità con il suo dipinto. A volte utilizzava fango e bastoncini. Sì, utilizzava fango e bastoncini. E se non riusciva a trovare un bastoncino? E se non riusciva a trovare un bastoncino, utilizzava il suo... Cosa? Sai, io dico di non parlare e lasciare che i dipinti parlino da soli. Oh, mio Dio.